Ciao a tutti da San Pietroburgo, sono meno 8 gradi, si sta benissimo. Volevo parlarvi un attimo di una cosa che ho visto su Twitter, che è la notizia in pratica che il governo si sta effettivamente occupando del blockchain. Cos'è la blockchain? Ve lo dico tra un attimo, ma diciamo che della blockchain ha parlato più volte di Maio, in varie trasmissioni televisive quando ho invitato, dicendo che il governo investirà sulla blockchain, farà dei progetti basati sulla blockchain, senza bene specificare cosa. Io l'ho sempre presa come una berlusconata, diciamo, nel senso che pensavo fosse così una parola molto gonfiata, cioè lo è di fatto, e che Di Maio lo utilizzasse così per farsi bello, ecco, per vedere che lui punta il progresso. In realtà questa blockchain, come dicevo, è una parola molto molto gonfiata. Il bitcoin è, scusate, è proprio una sciocchezza, vorrei dirla in termini fantoziane, ma mi trattengo su questo. Diciamo, il bitcoin come moneta è troppo volatile e ha un sacco di problemi. Si potrebbe creare con la stessa tecnologia un'altra moneta. Non so perché, non vedo molto il senso di questo. Diciamo, la blockchain cos'è? Perché è una tecnologia che sta alla base del bitcoin e è una tecnologia che registra tutte le transazioni in modo distribuito, decentralizzato, ovvero non c'è un server centrale, un'entità unica che dica che questa transazione sia valida o meno. Sì, c'è un po' di vapore che viene fuori da sottoterra, ma non è una regione vulcanica, state tranquilli. Dicevo, le transazioni, la conoscenza sulle transazioni è decentralizzata, ovvero ogni nodo è in grado di stabilire se una transazione è vera, è, come dire, è valida o meno. E i nodi che decidono di, vabbè non voglio entrare troppo nel tecnico, diciamo, è decentralizzata, ovvero non c'è un'entità unica che controlli tutte, ma i nodi che appartengono a questa rete della blockchain, i nodi sono, potete immaginarli come computer fisici delle persone, degli utenti che usano questa tecnologia, ognuno di questi ha una piccola percentuale di potere in base a quanto, effettivamente, in base a quanto il loro computer è potente. Questa rete decentralizzata, come praticamente tutte le reti decentralizzate, ha un grosso problema, che un'entità che riuscisse a controllare una buona parte, diciamo, non necessariamente neanche più del 50%, diciamo, se controlla più del 50% allora siamo proprio feriti, ma diciamo che controlla una buona percentuale della capacità computativa di questa rete è in grado di manipolarla, di effettuare transazioni fasulle e, in ultima istanza, di frodare o di rubare soldi se si tratta di bitcoin, se la tecnologia viene usata per altre cose, può inserire delle registrazioni non valide, effettizie che fanno comodo a lui, che danneggiano tutti gli altri. Per carità, si può anche studiare questa cosa, però io sinceramente non riesco a vederne alcun utilizzo da parte dello Stato, da parte di qualche azienda può essere che ci siano degli utilizzi, però diciamo il fatto che sia così facilmente manipolabile da una grossa entità, ecco la rende secondo me inadatta a un uso da parte di qualsiasi, diciamo, un uso a livello statale, a livello di nazione. Qualcuno potrà dirmi, beh, ma insomma, prima di controllare il 50% dei nodi, insomma, è molto difficile. Sì, è molto difficile per me, però se pensate, in termini geopolitici, se abbiamo l'Italia che decide di usare una certa criptovaluta, o comunque, sì, parliamo per esempio di una criptovaluta, ok. E dopo hai la Cina e l'India che si mettono insieme per abbattere, per danneggiare in qualche modo l'Italia, lo fanno molto facilmente, se tutti si coordinano. Possiamo parlare di Cina e l'India, ma possiamo parlare anche di Unione Europea, mettiamo che tutti gli altri paesi dell'Unione Europea sono contrari a un certo utilizzo da parte dell'Italia di questa criptovaluta, o comunque di questa tecnologia, si può facilmente manipolare e di fatto far saltare in aria. Non lo so, io la vedo una cosa molto pericolosa e quello che non mi piace, soprattutto, di questa iniziativa è che, almeno quello che ho visto su Twitter, è una persona che sembra essere coinvolta nella vendita, nello scambio di Bitcoin, quindi, diciamo, vedo un leggero conflitto di interessi. Vabbè, vedremo come va a finire e spero che rimanga solo una trovata propagandistica. Però, stiamo un po' attenti. Ciao, buona giornata a tutti.